Zin, vincitore della maglia verde al Giro d'Italia, cosa ci racconti di questo tuo bel giro? Sì, diciamo, ero partito con l'intenzione di fare bene a qualche tappa, i primi due giorni sono andato in fuga e pian piano è emerso, diciamo, questo nuovo obiettivo. All'inizio sembrava quasi impossibile, perché con tanti arrivi in salita, gli uomini di classifica sembravano, insomma, favoriti, però giorno dopo giorno è diventato sempre più reale. Oggi partivo con un solo punto di svantaggio dal colombiano e sono stato attento al terzo della classifica che ha attaccato. L'ho seguito e dopo sono riuscito a guadagnare ancora punti e a portarla a casa. Bel giro tuo della Zalf con due vittorie, sicuramente siete felici anche di aver vinto in casa vostra. Sì, sicuramente. Ci sono state tre vittorie italiane, due sono state della Zalf, e quindi è sicuramente un grande risultato. Ci eravamo preparati bene, anche se era comunque difficile far bene in una gara così impegnativa, con dei corridori così forti e abituati ad altre corse rispetto alle nostre.